Gentili telespettatori buona giornata. Giorgia Meloni pensa a un sorpresone per gli italiani quando poco prima delle elezioni europee, un po' come furono gli 80 euro del governo Renzi. La scelta verrà fatta a fine anno in base ai conti, a quello che c'è, a quello che è rimasto nel cassetto. Le europee sono il prossimo anno a marzo, quindi meno di un anno, meno di 12 mesi, Meloni vorrebbe fare come fece Renzi nel 2014, quando nel 2000 appunto quell'anno l'allora leader del PD fece il decreto con gli 80 euro e prese il 40% dei consensi alle europee. Da alcuni mesi ci sono delle persone nel governo che stanno lavorando a un progetto che chiamano bandiera, un progetto bandierone, capace di far rimanere l'opinione pubblica impressionata da questo regalo per favorire Fratelli d'Italia alle elezioni europee dove la Meloni punta a vincerle con i conservatori e a far diventare l'Europa di centrodestra. non è che Meloni vuole rifare gli 80 euro di Renzi ma siamo molto vicini e da qui si capisce dal documento di economia e finanza, gli esperti dicono paradossalmente il decreto economia e finanza svela questo anche se dovrebbe essere una sorpresa. Nel documento fatto dal governo appena presentato e dicono il documento è scarno, certo non ci sono i soldi nelle casse dello Stato, non ci sono i soldi neanche per il ponte sullo stretto di Messina. Ci sono pochi soldi nel decreto, bisogna tenersi in linea con le regole di Bruxelles, rassicurare i mercati. La tesi accreditata è che il governo ottenga una carta scoperta o più carte scoperte. Il documento è stato ulteriormente anacquato, dicono, all'atto di essere varato. Poche cose per tenersi da parte, un qualcosa per, come vi dicevo, per il sorpresone per le elezioni. Il vice ministro dell'economia Leo dice, beh se le cose andranno bene potremmo fare una sorpresa agli italiani per fine anno, cioè proprio nel periodo in cui si avvierà la macchina del consenso per le europee. Anticipare la sorpresa non è possibile perché oggi non si ha un quadro completo di quello che succederà. Le bollette salgono, scendono, quindi non si sa quanti soldi poi saranno disponibili per il sorpresone. E poi da qui a 2024 non ci sono elezioni. In questi 12 mesi non ci sono elezioni rilevanti. Ecco, l'opposizione è inesistente, quindi non ci sono problemi di opposizione in questo paese, fanno sapere fonti del governo e poi rivelando oggi la sorpresa la Meloni si esporrebbe alle critiche sia dell'opposizione sia degli alleati. Ecco, pertanto si andrebbe a privare l'effetto sorpresa a ridosso delle elezioni, quel pull factor, quel fattore di attrazione per far votare Fratelli d'Italia alle elezioni europee. Ma l'esponente del governo dice quindi già adesso siamo più o meno agli stessi livelli del decreto Renzi. Quindi si ipotizza un qualcosa come 80 euro, almeno ad ogni italiano. Ma non bastano gli 80 euro, vorrebbero fare qualcosa di più forte, qualcosa che rimanga, che gli italiani rimangano a bocca aperta. Dove verranno presi i soldi? Dicono che i soldi stanno appunto nei fondi di coesione, nel PNRR, che insieme valgono circa 280 miliardi di euro. Così si torna alla frase con cui Fitto descrisse la situazione. L'Italia rischia di soffocare nel debito mentre sta seduta su una montagna di denaro. e così diciamo che durante la campagna elettorale si farà poi questo annuncio, ma a ridosso delle elezioni. Beh, intanto bisogna capire soprattutto dove, come e quando prendere questi soldi. Il governo Meloni chiede all'Europa una maggiore flessibilità sull'uso di questi soldi, in modo che eventualmente prenderli e destinarli appunto a sorpresone senza fare debito e senza togliere quei soldi ad altre mete. Pertanto da una parte c'è la trattativa sul PNRR e dall'altra parte c'è la carta coperta in parallelo. La Premier non ha altra strada per realizzare il suo progetto. L'obiettivo è riuscire a dimostrare che le cose dette in campagna elettorale si fanno. Oggi ci sono dei problemi con il ponte sullo stretto perché costa molto di più di quello preventivato, i soldi non ci sono. Il blocco navale non si farà perché l'Europa non ha nessuna intenzione, in Italia non lo si vuole fare, la legge Fornero non verrà abolita, per mancanza di soldi anche quella. Pertanto la Meloni sta cercando di capire come far contento l'elettorato che si aspettava alcune cose e non le sta vedendo realizzare. L'elettorato cerca ancora di giustificare, è però ma comunque, ma col tempo le giustificazioni poi finiranno. Grazie a tutti e arrivederci a presto.